Ragazzi si continua Scusate ma ho fermato ma dovevamo vedere il filmato Poi metto a ricaricare la macchina fotografica e poi continuiamo ragazzi Questo let's play mi fa venire voglia di spaccare il televisore ed entrare dentro il mondo di Cars Ma anche non ne ho voglia Cars all'inizio non mi piaceva tanto Poi adesso non mi piace poco eh Adoro molto Super Mario ma anche Cars non è male Wow Carlo Atrizzi credevo che le mie corse fossero dure ma hai perso un detto Davvero? No non avevo detti Ehi senta ti ho vinto un legame guarda So che ti piace parecchio questa roba Oh grazie Carlo Atrizzi Senti non dovevi farti pestare così solo per me sa Pestare? Mi sono divertito un sacco E poi a che servirebbero altrimenti i migliori amici? Beh è vero gli amici cosa servono? Ad essere aiutati ovviamente Vabbè ragazzi adesso un attimo stop quando ritorniamo alla The Force Pring Sì che tra pochissimo perché non ci vuole molto Quello piccolo tempo vi ho voluto far vedere Così c'è Vi ho voluto far vedere il filmato Ma vabbè ci vediamo ragazzi Col prossimo evento Grazie mille